Salve a tutti ragazzi e benvenuti in una nuovissima avventura con me Matteo Studio Oggi parleremo di Avengers Secret Wars di nuovo Ma perché abbiamo nuovissime notizie, notizie, nuovissime Da prendere sempre purtroppo con le pinze perché è un film comunque sia lontano Però direi che se ne può parlare Prima di incominciare vi volevo ricordare però molto importante di iscrivervi al canale Perché se vi iscrivete tutti potremo anche essere 500 iscritti Perciò iscrivetevi in modo tale da arrivare a questo traguardo insieme Detto questo, ritorniamo al video Alt, piccolissimissimo spot Lo sapete che io sto anche su Instagram e su TikTok? Andatemi a seguire anche lì perché comunque sia secondo me ne vale la pena Su TikTok pubblico qualche short che ormai appunto potete trovare anche su YouTube Però anche su TikTok pubblico anche altre cose che su YouTube non ho mai pubblicato Oppure potete vedere su Instagram alcuni aggiornamenti per quanto riguarda i video O alcuni leak per i miei video O semplicemente dei semplici post che vi annunciano magari il ritorno di alcuni personaggi nei film Detto questo noi ragazzi ci salutiamo e ci vediamo nel video Ebbene ragazzi Avengers Secret Wars è molto lontano Previsto per il 2026 sempre se non ritarderà Ci sono già però dei progetti in mente ai Marvel Studios Abbiamo tra l'altro un piccolissimo leak che potrebbe appunto leakarci il probabile registra Non so se voi avete sentito in giro già questa notizia Io personalmente appena la sono venuta a sapere Ve ne parlerò subito come sto facendo in questo momento E infatti Sam Raimi dovrebbe dirigere Avengers Secret Wars Un veramente una cosa importantissima Ha un progetto sulle spalle importantissimo Perché secondo me se c'è Sam Raimi potremmo vedere un bellissimo film Per quanto riguarda sia l'azione e il cinecomic Ma anche per quanto riguarda l'horror Perché alla fine è lo stile di Sam Raimi è quello Molto importante tra l'altro secondo me Secondo me è molto importante trovare un ottimo regista per fare un buon film Tra l'altro per un film così importante Anche perché andrà a vedere il sesto film degli Avengers Perciò ragazzi sarebbe una cosa importantissima Poi Secret Wars ci sono dentro un sacco di personaggi E potrebbe e potrebbe e potrebbe anche rivedere il ritorno di Andrew Garfield Del Tobey Maguire soprattutto del secondo Perché ragazzi Sam Raimi affezionato com'è allo Spider-Man di Tobey Ovviamente Potremmo avere il ritorno di questo personaggio Tra l'altro tra l'altro un'altra piccolissima chicca È che Doctor Strange 3 sarà sempre diretto da Sam Raimi Perciò in tutto e per tutto adesso Sam Raimi Diciamo che sta iniziando ad entrare con i Marvel Studios E so sempre di più Questa cosa mi fa molto piacere Perché per progetti futuri può sempre tornare utile questo regista Detto questo ragazzi Fatemi sapere di cosa ne pensate Fatemi soprattutto sapere nei commenti Che ne pensate appunto su Doctor Strange 3 E che ne pensate su Secret Wars Secondo voi se Sam Raimi è un ottimo regista o no L'avete già visto in azione con Spider-Man Ma nelle Marvel l'avete visto con Doctor Strange Fatemi sapere quindi nei commenti cosa ne pensate Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E niente Bye bye guys Ciao 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 Grazie.